Informazione senza speranza e giornalisti colpevoli dello sfascio. Eccolo l'ultimo attacco targato Beppe Grillo, quello al potere dei medi e della televisione, quel potere a disposizione dei partiti, una vera e propria occupazione militare. Uno scempio H24 nei talk show, nei telegiornali e nelle inchieste su misura. Parte dal blog con tanto di facce del direttore del Tg1 Mario Orfeo, del Tg2 Marcello Masi, legittime le critiche, non gli insulti, dirà più tardi Masi, e del Tg3 Bianca Berlinguer. Perché l'attacco è all'informazione Rai soprattutto, quella stessa informazione che Roberto Fico, 5 Stelle, presidente della commissione vigilanza della Rai, denuncia instancabilmente. Ma questi signori, dai responsabili di testata Floris alla Gruber, non solo Rai dunque, se ne fregano delle denunce, si sentono impuniti e protetti, nessuno di loro che si chiami fuori e che abbia uno straccio di dignità. I giornalisti sono i principali colpevoli dello sfascio del paese, asserviti a un padrone, a una ideologia, al portafogli. Grillo a questo punto propone un sondaggio, la cui domanda è la seguente. Cosa è giusto fare contro l'informazione Rai dei partiti? Occorre denunciare la Rai alla Commissione europea, secondo il 49% delle risposte, e occorre non pagare più il canone, secondo un altro 46%. Perché l'Italia è al settantesimo posto per l'informazione e la colpa di questa situazione è tutta dei giornalisti che ci chiedono di partecipare alle loro trasmissioni. Ma cosa ci andremmo a fare? A farci omologare ai professionisti della politica, come Casini e come Renzi? E siccome non si può lasciar bruciare la nazione, mentre questi, come Grillo definisce i giornalisti, occultano i fatti, allora qualcosa bisognerà pur fare.